Da almeno due anni le porte dell'ostello di Calendasco erano chiuse, ovvero dal decreto Salvini del 2019 che aveva tagliato i fondi dell'accoglienza e limitato fortemente i flussi migratori, ma adesso la struttura potrebbe riaprire sulla spinta dell'emergenza afghana vissuta in prima persona dal nostro territorio. Oggi infatti nella base militare di San Polo ci sono 75 profughi, soprattutto donne, bambini e famiglie, per il periodo obbligatorio di quarantena anti-covid. Dopo i dieci giorni di isolamento, gli afghani fuggiti dai talebani dovranno essere redistribuiti nei locali messi a disposizione da privati, cooperative, enti del terzo settore o amministrazioni comunali, tra cui appunto l'ostello di Calendasco. La titolare Eva Zaniboni avrebbe comunicato alla prefettura la disponibilità a gestire una ventina di profughi nelle stanze al centro del paese. Negli ultimi due anni, a causa del sistema dell'accoglienza quasi azzerato, la struttura aveva perso buona parte dei propri introiti e la responsabile aveva lasciato Piacenza per dedicarsi a un master sull'integrazione dei rifugiati a Dublino. Ma oggi dunque l'aria è cambiata e il gestore starebbe effettuando alcuni lavori di adeguamento per ospitare gli afghani. Nei giorni scorsi non a caso c'è stato anche un sopralluogo con i funzionari della prefettura. Determinanti, nelle prossime ore, saranno infatti le indicazioni dell'amministrazione statale di via San Giovanni e del Viminale. Numeri, modalità e dettagli sono ancora sconosciuti. Probabilmente non tutte le famiglie afghane oggi a San Polo rimarranno nel Piacentino. Potrebbero essere trasferite anche in altre province.